Prova a scendere giù in picchiata? Se riesci a stare in picchiata, sì. No! No! Vabbè! E' vero in plananti. Adesso ci muoro. Perché mi dici sì? Sì, fai detto di nuovo. No, regate, no, tutto quanto. Non so. Oh, però è stato benissimo la caduta. Qualcuno mi fa una clip, per favore. Non so se facciamo in tempo. Grazie.